Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Vivila, vivila, vivila. IRDM, IRDM, IRDM. All'interno della sala consigliare del comune di Pentone, nella provincia di Catanzaro. Per la prima volta siamo qui a cercare di promuovere nella rete, in modo molto capillare, tutto quello che Pentone riserva alle persone che vogliono veramente visitarlo, perché poi è un comune molto virtuoso, tra l'altro. Andare nei computer, andare a diffondere il proprio pensiero per il mondo è una cosa molto attuale. Intanto grazie a voi e benvenuti nella nostra piccola comunità. Ci onora avere un nuovo sistema di comunicazione, quello che voi rappresentate attraverso il web, per poter promuovere il nostro paese, il nostro territorio. Anche se oggi i mezzi di comunicazione ci consentono in qualche modo di avere una proiezione delle nostre attività all'esterno. Però grazie a voi potremmo sicuramente realizzare delle dirette molto interessanti e riprendere dei momenti importanti della nostra attività amministrativa, del nostro territorio, di tutto quello che si muove intorno non solo al nostro paese, ma all'intera presidio, la Catanzarese, perché noi siamo ridosso della città capologa di Regione, siamo confinanti con la città capologa di Regione e riteniamo di avere realizzato alcuni virtuosismi in questi anni, grazie anche a Giuditta Mattace, che tiene molto questo sistema di comunicazione e alla comunicazione in generale, perché ha capito che è uno di quei modi per poter promuovere positivamente le attività che noi svolgiamo. Quindi grazie a voi, perché attraverso questa piccola iniziativa, questo breve momento, ci farete conoscere anche, credo, della regione dalla quale voi proveniate, credo che sia la Puglia, che è una bellissima regione anch'essa, che conosco in larga parte, è una regione di grandi iniziative e di grandi sviluppo. Il Presidente del Milione, penso, la parte positiva è importante del Milione, anche per quello che riguardano le attività, non solo economiche, ma soprattutto agricole. Abbiamo in comune delle coltivazioni che in questo momento stanno subendo delle situazioni di grave disastro, come quella olivicola, e penso che questo potrebbe essere un modo per relazionarci e creare degli spunti importanti per promuovere i territori e delle sinergie, diciamo, relative a entrambi i territori. Molta tradizione e molto senso anche della promozione del territorio stesso, perché comunque in un certo qual modo ci sono delle cose da proporre nel resto d'Italia. Noi, diceva il Sindaco, che partiamo come idea dal Salento, però siamo presenti su 19 postazioni in tutta Italia, quindi 19 regioni che ripetono il nostro segnale quando lo vogliamo. Allora, questo è il modo più opportuno per far conoscere Pentone, questo lembo di terra della Calabria, che è molto, come dire, concentrato. Esatto, sì. Il mio sindaco mi ha attribuito la delega del turismo e della cultura e quindi, dovendo adempere al mio obbligo, abbiamo pensato di utilizzare un canale quale il vostro, www.irdm.org, in quanto vogliamo appunto promuovere la nostra bella Pentone nel mondo. Voi avete già diverse sezioni, come giustamente dicevi tu, direttore, aperte, quindi è una piattaforma che è già lanciata, che ha milioni di visitatori durante l'anno. Noi abbiamo una comunità di pentonesi all'estero, sono migliaia di pentonesi sia in Canada che in America, quindi vogliamo, anche perché ce lo richiedono da diverso tempo, poter fare in modo che i nostri contenuti siano fruibili anche oltreoceano. E quindi l'attività amministrativa che è stata messa, insomma, che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo di amministrazione, il prosiegua dell'attività amministrativa, magari anche sindaco riusciremo a fare le dirette del Consiglio Comunale, le dirette dei nostri eventi che sono tantissimi. Il prossimo utilizzo l'occasione per invitare tutti i salentini e tutti i pugliesi a venire a visitare la terza edizione del Presepe Vivente di Pentone che si terrà il 28 e il 29 dicembre dalle ore 17 alle ore 21. E quindi insomma noi vorremmo utilizzare questa piantaforma, pressoché diciamo gratuito, con prezzi assolutamente irrisori, per promuovere, partendo da Pentone, l'intera Presila. E quindi un arrivederci quando avremo concretizzato il progetto per la prima vera diretta dalla nostra splendida Sala del Consiglio. E cerchiamo adesioni, ovviamente, chiunque avesse una professionalità da proporre, sapesse suonare musica, con cittadini e non professionisti, vorressero aderire a questo progetto, sono invitati a comunicare con il Comune di Pentone oppure contattarci sulla pagina Facebook del Comune, che è Comune Pentone Sottore Cultura, e insomma proporci vari progetti che saranno chiaramente di volta in volta analizzati dagli uffici e dai responsabili competenti. In un contesto, scusami, dovevi continuare? No, no. In un contesto, insomma, di spending review. Diciamo che noi ci proponiamo di essere un modello della spending review a livello nazionale, perché noi abbiamo fatto delle cose a totale costo zero in questi anni, quindi per noi è una sfida questa, cercare di essere un modello di amministrazione che guarda i cittadini, che soprattutto amministra come se fosse casa propria il Comune e le casse comunali. In questa ottica potrebbe essere positivo avere un emittente di questo tipo, che è naturalmente il web, perché è il futuro, potrebbe essere positivo perché potrebbe essere non solo di esempio ai Comuni e ai Mitrofi, ma diciamo a tutti quei Comuni come noi soffrono naturalmente il problema economico, anche perché noi non abbiamo grandi risorse, quindi dobbiamo fare in modo che quelle poche che abbiamo vengano sfruttate in modo ottimale e al massimo, anche perché abbiamo una tassazione fortemente elevata, è una delle nostre sfide attraverso cui pensiamo di realizzare anche con la nuova gestione della differenziata quella di ridurre un po' le aliquote fiscali che riguardano anche l'IRPEF, l'IMU e naturalmente, come dicevo prima, giusto per ripetermi, la differenziata, la cui tariffa per noi è pari ai paesi più importanti da un punto di vista economico a livello europeo, quindi speriamo veramente di realizzare anche se questo emittente, dei processi interessanti per quello che riguarda anche la gestione amministrativa di cui noi pensiamo di esserne una parte rilevante per quello che riguarda la gestione della nostra paesilla che è tutta una realtà abbastanza povera priva di attività economiche, però noi ci proponiamo appunto di essere di riferimento in modo modesto, naturalmente umile, ma perché pensiamo che rispetto agli altri abbiamo in questo momento la capacità di sacrificare molto del nostro tempo a fuori della nostra comunità, del nostro comune. Allora tutto questo servizio naturalmente andrà in onda prossimamente su IRDM, sulla piattaforma centrale e poi pubblicheremo anche sui social abilitati proprio anche per i download se qualcuno volesse scaricarlo, eccetera. Ringraziamo anche il maestro, il principe che ha voluto essere presente e testimone in questo felice momento nel comune di Pentone. Poi dovrei ringraziare il tecnico, si chiama, com'è? Pier Paolo Celi, non solo tecnico professionista, ma amico di Pentone, ci aiuta a fare una promozione capillare ripetuta sul territorio e quindi grazie anche al caro Pier Paolo Celi. Però la giornalista la saluto io. Ringraziamo Valentina. E quindi questa è una prima prova tecnica dalla sala del comune di Pentone, e poi ho l'occasione anche per ringraziare gli uffici che ci hanno aiutato nell'allestimento. Come giustamente diceva il sindaco, qua nell'ottica della spending review, di cercare di utilizzare al meglio i soldi, addirittura prima si chiacchierava sindaco, come abbiamo potuto fare queste riprese oggi tramite un mixer che era buttato in un angolo del comune, è stato preso da sindaco, rigenerato e rimesso a disposizione della comunità a un prezzo risorio. Avremo nelle prossime occasioni possibilità per ciascun argomento, che sia la raccorta differenziata, l'ambiente, l'architettura, il rischio sismico, le bellezze del territorio. Dedicheremo lo sport, chiaramente che abbiamo uno splendido palazzetto nel comune di Pentone. Riusciremo a fare diverse interviste, sindaco, con i professionisti del territorio, con chiunque vorrà collaborare. Le aziende, le aziende. Le aziende, come diceva il sindaco ce ne sono poche, ma puntiamo. E promuoviamo l'olio, promuoviamo le materie prime. Esatto. E quindi avremo la possibilità, con il contributo, speriamo di quanta più gente possibile, di riempire di contenuti culturali, soprattutto tecnici e professionalizzanti, questo vostro canale. Si chiamerà IRDM Pentone, quindi grazie ancora, grazie al principe della musica degli Equipi 84 per averci onorato a venire a Pentone, grazie a Valentina Mattaggio, l'architetto, che gratis e t'amore dai questa mattina ci sta aiutando nell'allestimento, grazie di nuovo a Pierparageli e come vedi il nostro sindaco... Viva Pentone, viva il sindaco Michele, allora. Viva il sindaco che è, diciamo, riduttivo, viva la nostra comunità che è meglio perché i sindaci non sono sempre ben visti. Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Vivila, vivila, vivila. IRDM, IRDM, IRDM.